verso il super green pass il prefetto annuncia tolleranza zero novax vi disprezzo il post di nudi fa il giro d'italia stelle al merito per dieci maestri del lavoro della provincia chimica delle droghe conoscerla per evitarle il progetto dell'ipsia benelli buonasera e benvenuti al nostro telegiornale oggi è giovedì 2 dicembre e siamo a quattro giorni dall'entrata in vigore del super green pass un altro provvedimento restrittivo per i non vaccinati ma anche un provvedimento che porta ad organizzare una nuova macchina operativa di controlli per rispettare le nuove la nuova legge controlli che il prefetto di peser urbino tommaso ricciardi annuncia già che saranno a tolleranza zero con il recente dl 172 dal 6 dicembre al 15 gennaio avremo l'applicazione di misure più restrittive in un momento in cui evidentemente l'andamento della curva non ci consente di abbassare la guardia anzi dobbiamo ancor più essere attenti quindi è stata predisposta come da indicazioni del ministro dell'interno una un comitato una pianificazione dei controlli che effettueranno ovviamente in massima parte le forze di polizia con l'ausilio delle polizie locali ma ci aspettiamo la collaborazione di tutti a partire dai cittadini perché evidentemente come il ministro dell'interno ha detto i controlli dovranno essere serrati puntuali e rigorosi cioè rigorosi nel senso che non sia non si ammetteranno più d'ero che non si non ci sarà più tolleranza quindi possiamo dire che sarà applicato in questo periodo il controllo con tolleranza zero quindi le multe saranno elevate e saranno anche abbastanza sostanziose insomma cospicue come come si parla dai 400 ai 1000 euro insomma in caso di mancata presentazione o mancato possesso del certificato verde da vaccino rinforzato. Sta facendo il giro d'Italia il post di Umberto Gnudi primario del pronto soccorso di Pesaro che su Facebook ha pubblicamente espresso il suo disprezzo per i Novax scrivendo di avere perso la pazienza all'ennesimo caso di Novax positivo che vuol dire più lavoro e più rischio per i sanitari già stremati ma soprattutto meno posti letto per tutti gli altri malati vittime innocenti di cieca stupidità. Gnudi si è rivolto ai Novax scrivendo Se venite in pronto soccorso malati vi curerò perché è il mio lavoro ma sappiate che vi disprezzo non è questione di libertà di pensiero ma di rispetto per la comunità non ne avete, non ne meritate, avrete le mie cure come sempre ma sappiate che mi fate schifo. Parole che in queste ore stanno rimbalzando sui media nazionali parole che Gnudi ha poi ulteriormente argomentato con altri post tante le reazioni social sia di solidarietà che di estrema contrarietà comprese quelle del movimento IoApro che ha chiesto alla regione all'assessore Saltamartini di rimuovere Gnudi dal suo incarico per parole d'odio che il movimento reputa inaccettabili. Altri 439 contagi da Covid-19 nella nostra regione Marche con 86 casi nella provincia di Pesaro Urbino e un'incidenza di 192 casi ogni 100.000 abitanti. Questi numeri del report odierno del servizio sanitario regionale che registra anche un aumento dei ricoveri saliti ora a 117 con 25 casi in terapia intensiva. Il numero dei decessi si alza a 3.155 da inizio pandemia con la scomparsa registrata oggi di una donna di 86 anni di Ancona. Restando in tema di monitoraggio di contagi è partito oggi il nuovo punto drive tamponi di Pesaro in via Lombardia. Negli spazi compresi fra mercato ortofrutticolo e sede della protezione civile si è creato un ingorgo di macchine arrivate in concomitanza dell'orario di apertura delle 14. dopodiché il traffico si è gradatamente regolarizzato con tante persone che si sono sottoposte al test antigenico direttamente dalla propria autovettura. Incidente stradale ieri sera a Montecchio di Vallefoglia dove per cause in via d'accertamento due auto si sono violentemente scontrate ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere il conducente di una delle due macchine a cartocciatasi nello scontro. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale per accertamenti entrambi gli occupanti delle vetture. Da oggi c'è una lanterna verde ad illuminare la finestra del Palazzo Comunale di Pesaro. Lo stesso colore verde che circonda anche la base dell'albero di Natale in Piazza del Popolo. Si tratta di un segno di pace, solidarietà e vicinanza di Pesaro nei confronti dei profughi bloccati al confine tra Bielorussia e Polonia. Mattinata di onorificenza in prefettura in occasione della cerimonia di consegna delle stelle al merito del lavoro a 10 dipendenti di aziende provinciali distintisi per laboriosità, condotta morale e sicurezza sul lavoro. Andiamo a conoscere chi sono questi 10 maestri del lavoro. 10 stelle al merito del lavoro 10 premi a dipendenti di aziende della provincia di Pesaro Urbino particolarmente distintisi per laboriosità, condotta e attenzione alla sicurezza del lavoro. Maestri del lavoro neodecorati che hanno più di 50 anni di età e più di 25 anni di attività continuativa e sono stati premiati oggi nel Salone Metaorense della prefettura di Pesaro Urbino con il conferimento delle stelle approvate dal Presidente della Repubblica Mattarella e consegnate dalla Federazione Maestri del Lavoro rappresentata nell'occasione dal console provinciale Luciana Nataloni. Dopo le due cerimonie di maggio 2020 e maggio 2021 annullate per le restrizioni da pandemia la cerimonia è tornata nell'inusuale collocazione di dicembre con 5 insigniti provinciali per il 2020 e 5 per il 2021. 3 dei 10 premiati con la stella sono dipendenti dell'IMAB Group S.P.A. ovvero Crescentino Sabatini, Paolo Stagnozzi e Giancarlo Mei. Premiati con loro anche Andrea Fabiani della Siprem, Marco Arzeni di Confcommercio, Stefano Ballarini di St. Andrews S.P.A., Maria Gambarara dell'ufficio patronato CGL, Maurizio Benedetti di DMM, Antonella Terenzi di Tecnobank e Loredana Menconi della CNA di Pesaro. Una soddisfazione per il premio ricevuto che chiaramente è un premio individuale ma va a tutta la struttura perché nel corso di questi 40 anni e passa di lavoro ho condiviso tante cose con dei colleghi eccezionali quindi gran parte del lavoro fatto e delle soddisfazioni ricevute sono merito di tutti. Per il lavoro che abbiamo prodotto in tutto questo periodo è grande, un riconoscimento emozionante per noi perché le paghe sono state scarse, almeno ci hanno riconosciuto questo grande risultato per quello che abbiamo fatto. Quanta vita è passata dietro al lavoro, a quante ore, quante notti, quante cose ho avuto a livello di emozioni e di soddisfazioni ma quante cose ho lasciato, la crescita dei bambini, di mio figlio e una vita l'anziana mia mamma lasciata da sola perché mi diceva sempre ma perché devi sempre lavorare? E io dicevo mamma perché devo lavorare, ho cose da fare, ho tanto, ma torna con me. Ecco, io ieri sera stavo ripensando a questo e dedico veramente questa stella a loro perché sono loro che l'hanno meritata prima di me, rinunciando alla mia presenza e io alla loro. È stata una lunga vita di lavoro dedicata soprattutto agli affetti che ho un po' tralasciato e dimenticato. Premiate con due targhe altrettante aziende, la Benelli Armi e la St. Andrews SPA per la capacità di riconoscere meriti ai propri dipendenti. La cerimonia si è tenuta nelle prefetture provinciali in via del tutto eccezionale dopo che abitualmente si organizzava una grande cerimonia regionale alla mole vanvitelliana di Ancona. Si sono distinti per laboriosità, per izia, per inventiva, per innovazione ed anche sulla sicurezza del lavoro oltre che per la buona condotta. È una cerimonia molto significativa dall'alto profilo civile e morale. La prevenzione che cura la salute oltre l'indifferenza. E' questo il titolo del convegno organizzato ieri da Casa Moscati del CEIS di Pesaro in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS. Ascoltiamo quindi le interviste realizzate da Giorgio Ricci in occasione di questo appuntamento tenutosi nel comune di Pesaro. Noi di Casa Moscati, del Centro di Stabilità di Pesaro e di CELIS abbiamo avuto quest'anno di fare una discussione a tutta la cittadinanza a partire dal tema dell'accidenzione. Abbiamo scelto i problemi di questo tema perché a suggerirci non sono stati rinconti con i ragazzi e le ragazze delle scuole sportive proprio perché noi con un progetto, oltre di un'esperienza inventiati da altri metodi di differenza, usciamolo e rinuncio, rivolgiamolo, almeno 60 o 70 casi. Abbiamo la possibilità di parlare con i ragazzi, di salute sessuale, di relazioni e di come costruirle in modo esprimissabile e sano. Ma la cosa che più di tutte ci preme, che questo gruppo vedele di venire stasera, è stata quella di dare proprio questo testaggio, la vera protezione, la vera protezione pura della salvezza è proprio arrivare l'animo della salvezza ora è presente, prima ancora di una vera protezione che è il punto di tempo che ci stanno a vedere anche qui. Ma purtroppo noi siamo i tuoi, la mia gente che è qui, la problematica è la parola di cultura a questo, sono sempre molto più grande, che si accade in modo da portare, tutte le famiglie di questo è quello che tutta la parola di cultura in Italia e oggi ancora la sua reprise, quindi me la faccio sulla camonne di cultura, come si sentiene dei filsi coronavirus, quindi committ unlike i dei quindi altri Grazie a tutti. Con professionisti del mondo scientifico, medico e farmacologico per indacare in termini chimico-biologici la pericolosità delle sostanze stupefacenti. L'approccio è sicuramente il nostro è stato prevalentemente scientifico appunto perché è nell'ambito dell'indirizzo di studio produzioni industriali per il Made in Italy, quindi produzioni chimico-biologiche, quindi è proprio l'indirizzo appunto specifico per avere le conoscenze e le competenze giuste per poter affrontare tematiche così complesse. Nasce nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, ci sono state appunto delle ragazze che hanno frequentato come stagiste la farmacia appunto del dottor Salvi. Siccome appunto il dottor Salvi è rimasto piacevolmente appunto diciamo colpito dalla preparazione di queste stagiste, ha voluto appunto conoscere meglio questo nostro indirizzo di studio e quindi proporci appunto questa iniziativa. Io per tanti anni sono stato presidente dell'ordine dei farmacisti e una delle mie attività principali era quella di divulgare l'uso delle sostanze stupefacenti, l'uso delle sostanze stupefacenti per uso terapeutico ovviamente perché l'Italia aveva dei ritardi molto importanti. Abbiamo cercato di avere tutta una serie di messaggi di poter portare al grande pubblico ma ai giovani in particolare questo tipo di problematiche e abbiamo inventato in un certo periodo della nostra storia il fatto di legare alle sostanze stupefacenti la problematica vissuta nei film. Abbiamo chiamato questo progetto Droga nella cinematografia e l'abbiamo presentato al comune di Pesolo. Devo dire con molta franchezza che questo è un argomento molto delicato e generalmente si tende a non affrontare direttamente. Ovviamente noi lo affrontiamo in una maniera diciamo scientifica senza entrare nell'aspetto socio-sociale perché sennò andiamo ad invadere campi diversi e viceversa. Questa esperienza è stata talmente importante e bella che ha avuto anche un riscontro a livello europeo, nel senso che delle ragazze di un istituto della provincia valenziana hanno fatto la stessa esperienza nella nostra farmacia con gli stessi risultati che fa capire che gli istituti professionali hanno una valenza professionale molto elevata. La collaborazione ha suscitato ulteriormente notevoli interessi tale da coinvolgere altri partner come l'associazione CARMA, CARGiver Marche, nelle persone del comitato scientifico il dottor Curina, il dottor Salvi che fa parte del comitato, il dottor Di Luca e anche l'Università Alma Mater del Studiorum di Bologna, nelle persone del dottor Tumiati e del dottor Vanzolini. È stato organizzato appunto uno seminario rivolto soprattutto alle alunne e alle alunne delle classi quarte e quinte. Ho cercato di far vedere come queste droghe nascono in campo mistico e religioso, come i monaci utilizzavano sostanze stupefacenti per cercare, era una ricerca della trascendenza, quindi una ricerca di qualcosa di più, mentre oggi purtroppo i ragazzi utilizzano queste droghe per una fuga dall'immanenza e quindi cercare di legare quello che è stato l'origine di queste sostanze fino ad arrivare all'uso oggi e abuso che sicuramente non era il senso della scoperta e della ricerca di queste sostanze. Teniamo presente che anche all'inizio erano sostanze utilizzate in campo medico. Per quanto riguarda le piante, appunto ho messo in rilievo che le piante oggi conosciute che possono fornire dei principi attivi, droganti, sono più di mille, ma ce ne sono tantissime altre che ancora neanche conosciamo e quindi come ogni pianta, d'altronde cerco di mettere sempre in rilievo questa cosa qui, può avere vari aspetti, oltre all'aspetto nutrizionale può avere un aspetto farmaceutico, medico, di terapia, può avere un effetto drogante, può avere un effetto tossico. Tutte queste funzioni ci sono in tutti i principi attivi delle piante, dipende poi dalle dosi e dall'uso o abuso, come avete detto prima, che si fa. Christmas Village, il villaggio di Babbo Natale inaugurato proprio lo scorso weekend in piazzale Matteotti, annuncia di abbassare le tariffe di ingresso al parco. In pratica, dal prezzo unico di 15 euro per adulti e bambini sopra i tre anni, le tariffe vengono ora rimodulate a 6 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni, 10 euro per gli adulti, mentre l'ingresso resterà gratuito per i piccoli sotto i tre anni. L'organizzatore dell'attrazione, Michele Di Stefano, ha annunciato che grazie all'aiuto di IMC Toys, il parco è diventato più inclusivo e accessibile. E torna una delle feste più dolci di questo periodo prenatalizio, è la Cioccovisciola che è pronta a tornare a Pergola da questo sabato. Inauguriamo sabato, questa manifestazione che ormai è una manifestazione storica, che si fa da diversi anni a Pergola, con sempre più novità, cioccolatieri che spongono e tutte le specialità locali ovviamente che vengono offerte, e la visciola che è al centro dell'attenzione, ovviamente su ogni aspetto e sfumatura della sua peculiarità. La visciola in particolare abbiamo scoperto negli anni che si accosta non solo a piatti dolci ovviamente della tradizione e al vino di visciola ovviamente che è il liquore che viene offerto e tradizionale, ma soprattutto trova degli ottimi accostamenti con il cioccolato, il cioccolato sia latte bianco che fondente. Ogni anno amo abbinare la visciola al cioccolato e creare una novità. Quest'anno in particolare ho creato un tartofino dal cuore morbido alla visciola e andando a ricercare dai coltivatori e nelle zone dell'entroterra appunto chi ha dimestichezza va a ricercare la visciola che è questa ciliesa selvatica che si trova un po' nelle nostre colline e ho accostato il prodotto appunto a un cioccolato fondente al 70% con questo cuore morbido veramente gradevole. L'acidità della visciola si accosta e impreziosisce il sapore del cioccolato in maniera molto importante. Il cioccolato visciola ha dimostrato di essere non solo una manifestazione in grado di portare gente, visitatori nelle località, nel museo, penso al museo dei bronzi e dorati di Pergola, ma è stata anche molto importante per far crescere un'attenzione artigianale al prodotto cioccolato e visciola. Pergola, lo dice il nome, è storicamente nota per essere una fucina di vini, una cantina di vini dal visciolato al Pergola rosso. Però l'abbinamento con la cioccolata ha consentito la crescita di diverse attività artigianali che hanno proprio imbottigliato il cioccovi o il cioccovisciola, abbinando queste due eccellenze tutte italiane, del cioccolato e della visciola. Quindi una manifestazione molto importante, arricchita anche dalla presenza di tanti operatori commerciali nelle vie del centro storico della città. La festa si svolgerà il 4, il 5 e l'8 dicembre. Avremo diverse attività ovviamente al di là dell'esposizione enogastronomica, quindi avremo delle iniziative legate anche ad ospitare il turismo itinerante, perché Pergola appunto si fregge anche dell'appellativo di essere amica del turismo itinerante, città amica del turismo itinerante, quindi speriamo anche lì di replicare tanto successo come durante la fiera del tartufo, quando sono arrivati tantissimi camperisti. Abbiamo anche predisposto ovviamente sotto i portici comunali un salone del gusto, dove si alterneranno cooking show e il 5, domenica 5, ci sarà proprio un pranzo organizzato e curato dalla scuola alberghiera di Piobbico, dove appunto si cercheranno di proporre una sorta di finger food, quindi anche un cibo abbastanza di dimensioni contenute, anche per contenere i costi e comunque proporre delle esperienze culinarie che possano insomma essere differenti, tutto sarà base di cioccolato e visciolato. E allora buon divertimento, godetevi questo prossimo fine settimana vivendo i tanti eventi che ci sono nella nostra provincia di Pesaro e Urbino, dedicati proprio al Natale. Mentre divertitevi con noi questa sera perché alle 20.10 vi faremo vedere quello che è il Natale che non ti aspetti a Monbaroccio, continua per diverse domeniche, quindi intanto potete avere un'anticipazione dal nostro servizio. E poi, come tutti i giovedì, in diretta torna una nuova puntata di Insieme a Canestro, il focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Gli ospiti della puntata sono Bruno Savignani, che è il vice allenatore della VL, e Marco Bedinotti, che è giornalista e opinionista. Vi ricordiamo che in diretta alle 21.20 potrete partecipare sia scrivendo messaggi su WhatsApp al 370-366-7210, ma anche scrivendo messaggi nella nostra diretta Facebook. Scrivete, partecipate, perché la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha in palio molti premi per tutti voi. E poi vi ricordiamo anche che domani torna il Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine. Non perdetevi questa puntata, così come tutti i venerdì alle 20, in replica alle 23.15 e poi in tutte le repliche che vedete fino al martedì della settimana prossima. Grazie per averci seguito e allora restate su Rossini TV e seguite la nostra programmazione. Intanto la rassegna stampa vi aspetta domani alle 7.20.